Ciao a tutti e benvenuti su Ideali Casa. Siamo in questo appartamento di nuova costruzione a Castelmaggiore e i nostri clienti hanno richiesto di arredare questa nicchia con un armadio su misura alle caratteristiche di avere leante specchio profilate in alluminio. Il nostro armadio è completo. Abbiamo una versione antebattenti con specchio, abbiamo tre antebattenti. Nel primo vano abbiamo la zona dedicata alle scope barra accesso all'impiantistica sullo sfondo e ripiani nella parte alta. Nel secondo vano, che è un vano da 120, abbiamo sempre zona dedicata all'impiantistica nella parte bassa, ripiani e tubo a pendiabito. La finitura scelta dal cliente è un bianco con i profili dell'anta specchio laccati in nero. Come avete notato abbiamo ricavato nelle zone dedicate all'impiantistica degli ampi spazi e per poter in un futuro avere una manutenzione comoda la schiena in questi vani è stata eliminata. L'abbiamo applicata solamente nella parte superiore, sia per il vano da 60 che per il vano da 120. per tutti i nostri armadi su misura visitate il nostro sito www.puglierecasa.com e i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video! Ciao!